Francesco ci ha raccontato un po', hai visto Musetti un po' porta l'arte nel gruppo, Berrettini un po' la chioccia invece del gruppo, Sinner sempre a testa bassa, insomma ci ha raccontato una visione un po' diversa dei nostri azzurri, ancora Sinner in campo prima di lasciare qui l'Unipol Arena e poi aspettare la coppia di doppio dentro.